La Porsche Cayman 981 GT4 è stata presentata dieci anni fa nel 2014, poi è stata prodotta in circa 2.500 esemplari tra il 2015 e il 2016. Le sue quotazioni sono molto elevate in quanto è stata prodotta in un numero limitato di esemplari. In questo servizio una vettura con crisi di novità lativa è un allestimento speciale Martini realizzato con decorazioni originali Porsche dal catalogo di equipment. Il motore è quello della 911 GT3 montato in posizione centrale, 6 cilindri, 3.800, 385 cavalli, cambio manuale 6 marce con doppietta automatica, pensate. Freni pazzeschi anche senza gli opzionali in ceramica. Un'auto meravigliosa da guidare, tenuta di strada e freni fantastici. Una delle auto più veloci in ogni tipo di percorso, soprattutto quelle per le curve. 4 secondi e 4 da 0 a 100 e 295 km l'ora. Pensate un po'. Ora godiamoci le sensazioni dall'interno pazzesche. Freni pazzeschi anche per la facettima. la rivista tutto porsche ha pubblicato molto di questa lettura sul numero 93 un bellissimo confronto monografia con la versione club sport da circuito leggetelo si trova nel catalogo arretrati grazie